Ben ritrovati a tutti su Meteo Giuliacci da Andrea Raggini. La giornata di domenica vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche al centro nord. Invece sarà una giornata di maltempo su parte delle due isole maggiori ma soprattutto sulla Calabria. La giornata inizierà con nuvolosità bassa sulle pianure del nord ovest, in particolar modo sul Piemonte, con qualche goccia di pioggia sul Cunese. Ampie schiarite su Alpi, Prealpi, e nord a Pennino, compresa la Toscana e Lazio settentrionale. Altrove nuvolosità a tratti compatta specialmente al centro-sud, dove non mancheranno precipitazioni fin dal mattino tra Basilicata, Campania, le zone interne del Monise, ma soprattutto in Calabria. Nel pomeriggio precipitazioni che tenderanno ad aumentare sul canale tra Sicilia e Sardegna, quindi potrebbero coinvolgere le aree meridionali della Sardegna e occidentali della Sicilia, ma attenzione proprio al pomeriggio, alle precipitazioni che aumenteranno anche sulla Sicilia orientale, nello stretto di Messina e soprattutto sulla Calabria, con possibili nubi fragi tra il pomeriggio e la serata. Ventilazione forte al centro-sud con mari che tenderanno a risultare anche in burrasca nelle aree aperte. Per quanto riguarda le temperature massime, saranno in diminuzione al centro-nord con valori compresi tra 14 e 17 gradi, valori invece fino a 20-23 gradi su alcune aree delle isole e al centro-sud. Per questo appuntamento è tutto, i dettagli vi trovate su Meteo Giuliacci, da Andrea Raggini è tutto, buon proseguimento.